Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata sono andato in missione per recuperare un po' di ferro e abbiamo fatto davvero un giro lunghissimo all'interno delle caverne purtroppo senza trovare diamanti. In questo episodio ragazzi torneremo sul tetto del Nether per fare qualcosa di veramente OP, una farm davvero carina e andremo a curare non solo l'aspetto funzionale della farm ma anche l'aspetto estetico. Sicuramente avrete notato che quello di oggi è l'episodio 399 quindi la prossima settimana domenica aspettatevi lo speciale per l'episodio 400 e non solo ragazzi aspettatevi qualcosa di speciale anche in live su Twitch. Se volete venirmi a trovare ogni mercoledì, venerdì e domenica a partire dalle 21 il link lo trovate in descrizione. Mi raccomando lasciate un follow. Allora andiamo nel magazzino a recuperare un po' di blocchi. Come vi dicevo non voglio fare solamente una costruzione funzionale ma anche bella esteticamente. Dato che avremo a che fare con gli Oglings direi di utilizzare questi blocchi di Warped Planks. Me ne serviranno parecchi quindi credo che dovrò andarle a farmare un pochino. Sì assolutamente assolutamente. Mi serviranno anche le Vines ok e i funghi che cercherò nei biomi del Nether. Oh bene bene siamo qua in questa zona del Nether a recuperare funghi, a recuperare legna. Allora dovrei aver portato qua la mia ascia ok perfetto e anche qua la mia bellissima zappa sgravata per riuscire a prendere anche questi blocchi che non mi serviranno per la costruzione di oggi ma possiamo prendere ugualmente in modo da avere un pochino di cose a disposizione anche nel magazzino. Ok qua ci sono altri funghi che possiamo recuperare ma che buco oddio che buco enorme raga Che cos'è sta roba? Pazzo pazzo questo buco non l'avevo mai notato Ok vado a recuperare tutte queste cose e poi ci vediamo sul tetto del Nether così iniziamo a costruire Ok ci siamo ragazzi saliamo sul tetto del Nether Dov'è il pulsante qua? Perfetto questa dovrebbe funzionare anche in 1.16.2 Perché ricordo ho fatto l'aggiornamento vediamo yes perfetto Oh eccoci qua ragazzi sul tetto del Nether Adesso dobbiamo raggiungere una zona dove c'è la Crimson Forest Quella praticamente con gli alberi rossi Ed eccoci qua a circa 128 blocchi di distanza dalla torre del Nether Come vedete qua il bioma è cambiato infatti ci troviamo nella Crimson Forest In questo bioma sponano gli Oglings infatti oggi andremo a fare una farm davvero sgravatissima di cibo Sfrutteremo la meccanica secondo la quale gli Oglings sono terrorizzati dai funghi che sto tenendo in mano E quindi potremo andarli a convogliare all'interno di una specie di fornace dove andremo a cuocerli direttamente Ottenendo quindi la carne Sicuramente alcuni di voi avranno già visto alcune farm basate su questa meccanica Ma vi invito comunque a seguire il video Perché l'andremo a fare in un modo particolare e con un design davvero molto interessante Allora ho iniziato piazzando una cesta che raccoglierà tutto quanto il cibo Adesso andiamo a fare una piattaforma 5x5 utilizzando gli Hopper Vi anticipo che questo non è il modo più semplice per fare questa farm Ma secondo me è il più efficace e allo stesso tempo più carino da vedere Allora andiamo a fare 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a unirli tutti quanti Quindi io direi di fare così Ok Andiamo a fare così Quindi abbiamo bisogno di ben 25 Hopper ragazzi Non sono pochi Ma ci sta, ci sta Allora andiamo a fare così Voilà E andiamo a unire anche quest'altro in questa maniera A questo punto andiamo a coprire questi Hopper con un mezzo blocco Io voglio utilizzare questo tipo di legno perché è lo stesso che si ottiene dalle piante che crescono con il fungo che abbiamo raccolto prima E che è quello appunto che terrorizza i nostri Hoglins E quindi secondo me come estetica ci sta davvero bene Poi qua dobbiamo andare a fare una specie di muro Tranne in questo punto dove dobbiamo mettere un mezzo blocco Alto 3 blocchi Quindi qua dobbiamo salire Possibilmente in modo semplice E andare a fare questo muro così Ok 1, 2, 3 E fino a qua Poi andiamo qua Non serve l'angolo quindi quel punto lì non l'ho riempito E lo facciamo alto 3 Questo è 1 Quindi 2 con questo Va bene Così Ok E 3 Adesso vado a farlo sopra Perché se vado qua dentro Rimango intrappolato per sempre Dal momento che questa è la vasca dove andremo a cuocere la carne Andiamo a fare delle piccole finestrelle Che chiudiamo con il vetro ciano Per poter guardare all'interno Anche se siamo leggermente più bassi Ma va bene lo stesso Andiamo a chiudere così Perfetto Andiamo a mettere anche qua Perfetto Così E da questa parte E poi andiamo a mettere la lava all'interno Quindi saliamo Andiamo qua E mettiamo la lava nel punto più basso che possiamo Cioè dove abbiamo messo il vetro E la mettiamo nei quattro angoli Quindi ne mettiamo un po' qua Così Vediamo di non cadere all'interno Perché sarebbe un guaio Ok Qua La cosa bella di questo tipo di legna È che non brucia Con la lava Perché questa appunto è una legna che si trova nel nether Quindi è molto molto utile per questo tipo di costruzioni Ok Ora ragazzi stando attenti a non cadere Saliamo qua sopra E andiamo ad aggiungere un altro strato a questo muretto Quindi lo facciamo alto così Perfetto Andiamo a mettere tutti quanti i blocchi Voilà E andiamo a creare la piattaforma di spawn Io utilizzo questo tipo di blocco perché mi piace esteticamente Ma potete utilizzare qualunque blocco L'importante è che andrete ad illuminare perfettamente questa piattaforma Allora dobbiamo uscire di 5 blocchi Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 E ovviamente 5 anche di qua e negli altri lati 1, 2, 3, 4 e 5 E qua andare ad unire e ovviamente riempire tutto quanto Quindi ci serviranno parecchi blocchi di questo materiale Ancora uno E andiamo da questa parte Ok perfetto Voilà Per poter illuminare come vi dicevo potete utilizzare le zucche Potete utilizzare credo anche la glowstone Ma io per una questione estetica voglio utilizzare solamente le torce Andrò quindi a riempire tutto quanto il terreno Quindi questa piattaforma con le torce Vedrete che l'effetto comunque è molto molto interessante Ok andiamo a fare così Perfetto Andiamo a tappare E andiamo a completare ovviamente la piattaforma Ora ragazzi sto riempiendo tutta quanta la piattaforma Con delle torce Per evitare lo spawn dei mob ostili Tranne che degli oglins Come vi dicevo potete anche utilizzare altri blocchi luminosi Al posto delle torce Ma secondo me le torce danno un tocco molto particolare a questo design Questa farm la dovete per forza costruire sopra il tetto del nether Perché quello che stiamo cercando di fare è di massimizzare lo spawn dei yoglings E basta Quindi non dobbiamo assolutamente avere interferenze con altri mob che possono spawnare all'interno del nether Ok dovrei aver completato tutta quanta la piattaforma Adesso andiamo ad aggiungere i nostri funghi Quindi mettiamo questo warped nylum qua Qua Poi lo mettiamo al centro Quindi qua in corrispondenza di questo blocco dove salgo E lo facciamo anche in questi punti qua Quindi negli angoli e praticamente al centro Ok così In questa maniera quando sponeranno qua gli oglins Verranno spaventati dai funghi che adesso andremo a mettere sopra questo terreno E quindi scapperanno al centro Ora al centro dobbiamo ancora andare a mettere delle trapdoor per ingannare gli oglins Facendogli credere che il pavimento continua E quindi cadranno all'interno della nostra fornace E quindi cuoceranno ragazzi Ebbene sì E ci daranno tantissima carne Ma davvero tanta ragazzi Vedrete sarà una roba incredibile Basteranno pochissimi minuti per avere stack di carne Ok Andiamo a mettere i funghi e sopra per evitare che crescano Perché questi fanno poi crescere gli alberi Andiamo a mettere un mezzo blocco Utilizzo il mezzo blocco in modo che qua sopra non possa sponare nulla Quindi ragazzi tutto quanto fatto in modo da ottimizzare al massimo la nostra farm Allora ragazzi adesso andiamo a mettere le trapdoor al centro per ingannare i nostri oglins Ne dobbiamo mettere 5 di qua Quindi attenzione a quello che facciamo perché potremmo cadere E le andiamo a chiudere così Quindi 2 di qua Ne mettiamo altre 2 di qua Ok Poi altre 5 di qua 1, 2, 3 E chiudiamo Attenzione a non cadere nella lava Tech sarebbe incredibile Forse mi salverei lo stesso ma non voglio provarci E qua ovviamente ne possiamo mettere solamente 3 1, 2, 3 Perché tanto questo blocco è già occupato da quest'altra trapdoor E andiamo a fare così Perfetto Poi al centro di questa struttura andiamo a mettere un blocco Quindi facciamo così Mettiamo questo Qui lo togliamo Anche se andrà nella lava e si distruggerà Perfetto Andiamo a mettere altre 4 trapdoor Intorno a questo blocco Così E per evitare lo spawn qua sopra invece di mettere una torcia Mettiamo un mezzo blocco in questo modo Ok La piattaforma diciamo è pronta Ora per estetica E anche per evitare che possa succedere Mettiamo delle fence qua intorno In modo che gli oglins non possano cadere In realtà non vanno da questa parte Perché sono spaventati e cercano dove c'è diciamo un pavimento Qua si farebbero del male quindi non dovrebbero andare Però potrebbe capitare che si spingono e quindi cadono E quindi per evitare questa cosa andiamo a completare qua ragazzi Utilizzando delle fence Direi di fare tutto quanto il giro della nostra piattaforma Così diamo anche un po' di estetica a tutto quanto Ok Così come avete visto ragazzi praticamente la farm è terminata Se ci spostiamo ad altezza 256 Iniziano a spawnare gli oglins E iniziano a cadere all'interno della nostra fornace Però oggi vi avevo promesso anche un po' un lavoro estetico E quindi adesso andiamo a migliorare tutto quanto Andiamo a mettere questi mezzi blocchi qua sotto Così E qua per evitare che si veda la terra che non sta affatto bene Utilizziamo delle trapdoor Sempre fatte con questo materiale E le andiamo a chiudere così Ok perfetto Poi lo faccio ovviamente per tutti quanti i blocchi di terra che ci sono qua attorno Adesso vi faccio giusto vedere la mia idea Poi per diciamo sostenere questa farm Perché sembra volare Andrei a fare una cosa molto interessante Qua in corrispondenza di questo blocco vado a mettere uno di questi Facciamo una specie di pillar Così Ok E andiamo a piantare queste twisted vines Che poi andiamo a far salire fino a toccare ragazzi Questa parte della farm In modo che faccia un po' da sostegno E lo facciamo ovviamente per tutti i lati E non solo Anche qua al centro Quindi in questo punto qua Quindi vado a mettermi così Perfetto Vado a mettere il mio blocco qua Poi ne andremo a mettere un altro qua Così Voilà Facciamo sotto la piattaforma Così E andiamo a mettere le twisted vines Ragazzi guardate che carina la nostra farm Devo aggiungere ancora qualche dettaglio Voglio salire qua sopra E andare a fare delle specie di lanterne Nei quattro angoli Quindi andiamo a mettere questo Poi mettiamo il nostro fungo luminoso E lo andiamo a Diciamo nascondere con le trapdoor Così da fare delle specie di Lanterne Lampioni Chiamateli un po' come volete Lo mettiamo anche sopra Ovviamente Così la trapdoor Perfetto Così Chiudiamo E anche di qua E ovviamente andiamo a riprodurre Questo lampione Su tutti e quattro Gli angoli della nostra farm Ta-da Ecco qua la nostra farm Terminata ragazzi Secondo me L'estetica ci sta davvero tantissimo Ho aggiunto anche queste lanterne Ho coperto qua sotto Con questi scalini Per non mostrare I vari hopper E ora qua dietro Ho creato questa piattaforma Perché andremo A fare Una scala Per poter salire Ad altezza 256 E quindi andare A far partire La nostra farm Come facciamo a salire Ragazzi Beh Direi di usare le vines La cosa migliore da fare Prendiamo una di queste qua E iniziamo a spammare Il nostro bone meal In modo da creare Una Di queste vines Che arrivi proprio Ad altezza 256 Ora non so se Basta questo bone meal Vediamo un po' Ragazzi qua Dovremmo stare attenti A salire Perché dobbiamo Evitare cadute E possiamo controllare Se siamo arrivati Fino in alto Vi consiglio di fare Questa cosa Utilizzando l'elitra Perché se per caso Cadete da quell'altezza Ragazzi Vi schiantate E morite Quindi io Le ho dimenticate Le vado a prendere E poi vado a creare Anche la piattaforma Ad altezza 256 Ragazzi Ci siamo Ho costruito La piattaforma Là in alto Sono andato a prendere L'elitra Che vado ad indossare Immediatamente Utilizziamo i razzetti Per il momento Vi faccio vedere Che la farm È completamente Vuota Adesso Vediamo di salire Là in alto Non utilizzo Qua le vines Perché Faccio prima Con l'elitra Guardate Vi faccio vedere Anche la piattaforma Che ho creato qua Eccola Andiamo ad atterrare Abbastanza dolcemente Ok E restiamo qui Un po' di tempo Possiamo aspettare Diciamo un minuto Circa Ok Sono rimasto qui sopra Circa un minuto Ora possiamo scendere Ragazzi Possiamo utilizzare Sia le vines Che Le elitra Però adesso voglio andare Piano piano Perché voglio farvi vedere La farm Dall'alto Così vedete anche A livello estetico Come è venuta E vediamo un po' Che cosa ha prodotto Secondo me Tantissimo Ragazzi Ecco la nostra farm Che compare Eccola lì Guardate Ci sono gli oglins Come vedete Che sono spaventatissimi E stanno cadendo Dentro La nostra fornace Ora Ovviamente Non sono triggerati Continuamente Ma piano piano Vedete Finiscono tutti quanti All'interno Guarda Guarda Sì Sì Hai paura Hai paura Ecco bravo Finisci lì Ok ragazzi Ora vi faccio vedere Che cosa abbiamo prodotto In poco più di un minuto Ci siamo Siete pronti Voila Ragazzi Incredibile Due stack E mezzo Abbondanti E 12 Di pelle Ragazzi Credo che sia La farm Di cibo Più efficiente Che io abbia mai Costruito Siamo stati sopra Solamente un minuto Ragazzi Quindi Vi consiglio Se avete la possibilità Di salire sul tetto Del nether Di costruirla Assolutamente E dunque ragazzi Siamo giunti al termine Di questo episodio Che spero davvero Vi sia piaciuto Mi raccomando Di lasciare un like E di iscrivervi al canale Perché molti di voi Seguono la serie Ma non sono ancora iscritti Mi raccomando anche La prossima settimana Con l'episodio 400 E se volete Venite a trovarmi In live su Twitch Link come sempre In descrizione A questo punto Non mi resta che salutarvi E darvi appuntamento Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti